Non trovò pace Annie Besant, 1847-1933, spiritualista inglese, non trovò pace nel matrimonio e nella maternità, né nelle credenze religiose e né nel socialismo, a cui collaborò attivamente. La lettura della dottrina segreta della medium Elena Blavatsky promosse in lei una nuova crisi che alimentò una nuova fede. Nel 1907 fu eletta presidente della società teosofica, da dove annunciò la venuta di un istruttore mondiale che avrebbe portato nuovi messaggi all'umanità e finì con riconoscerlo nel giovane indiano Krishnamurti, che più tardi si rifiutò di accettare questo compito. Commento Annie Besant, in francese, medium anch'essa, inconsapevolmente, come istruttore mondiale, forse intendeva l'avvento della medianità organizzata. Grazie. 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 Grazie.